Nasce il progetto New Generation, collaborazioni e sinergie volte a ampliare le prospettive future. Così è tempo di novità in casa del basket Lemura Lucca, che ha annunciato la nuova stretta collaborazione con la Nico Basket femminile, reduce da un ottimo campionato di Serie 2 terminato con l'uscita ai quarti di finale play-off, il Basket Lemura Spring e il Lucca Academy Basket. Un progetto ambizioso per valorizzare il movimento cestistico femminile su tutto il territorio, con attenzione alle giovani generazioni, che potranno essere un valido serbatoio per la prima squadra. Stiamo cercando di trovare le sinergie fra le nostre società, cioè cerchiamo di portare avanti il nostro progetto, il progetto di Lemura Nicobasca è sempre stato un progetto a livello giovanile, di portare su le ragazze giovani e cercare di farle arrivare più in alto possibile. Quindi con questa collaborazione non si fermeranno alla 2, ma avranno anche la possibilità di arrivare alla 1. quindi cercheremo di lavorare nel migliore dei modi per riuscire a tirar fuori qualche ragazza che possa veramente levarci delle soddisfazioni e levarsene personalmente. Per me è una cosa esagerata, se riusciamo veramente a portarla avanti è una cosa esagerata, che non c'è in Italia, non c'è in Italia. Quindi è una cosa veramente importantissima, sia per il livello economico che ci potrebbe dare una bella mano a tutti, e sia per il territorio che sono cose incredibili, per me sono cose incredibili. L'ho sempre seguita, sono venuto a vedere anche delle partite perché diciamo che io sono nato qui insieme alle Spring, sono nato via nel 2015 perché c'erano delle cose che non andavamo d'accordo su certi punti e l'ho sempre seguita, hanno fatto dei bei campionati devo dire e per me anche questo campionato che hanno fatto adesso tra mille difficoltà non è stato da buttare via, non è stato assolutamente da buttare via. Il presidente bianco-rosso Rodolfo Cavallo sarà affiancato dal nuovo direttore generale Ennio Zazzaroni, Jam General Manager della Nico Basket nell'ultimo campionato. Svelato anche il nome del tecnico che sostituirà sulla panchina bianco-rossa Colce Iurlarro. Si tratta di Luca Andreoli, allenatore emergente, giovane e motivato, in quest'ultima stagione alla guida delle Rosa Nero di Ponte Bugianese.